Qual è la emerging svizzera? Immagino che significa qual è la prossima svizzera? Qual è l'altro posto ancora non arbitraggiavole? La svizzera è ancora a marge ancora ci si può entrare e sfruttare non è ancora un mercato efficientato grazie tra virgolette a alcuni aspetti se vogliamo un po' socialisti della svizzera arriveranno i fulmini il fatto che alcune cose non è un mercato gli affitti non puoi fare l'affitto che vuoi su edifici vecchi non è libero il prezzo dell'immobiliare ma è legato al recupero dei coi è proprio tipo plus valore marxista sugli affitti come ha fatto a salire tanto? Quelli nuovi poi dopo fatto edificio nuovo fatto prezzo d'affitto non si tocca più quelli vecchi ancora costa poco quindi trovi affitti sotto prezzo ma ovviamente se qualcuno se ne va e si libera una casa con l'affitto vecchio bloccato a casa fatta 50 anni fa arrivano un milione di persone a vedere questo appartamento e a un certo punto il landlord decide di buttare giù l'appartamento e ricostruirlo in realtà che sento anch'io puzza sotto il mio appartamento che potrebbe accadere però questo qui ha il fatto che non sia un mercato un libero mercato degli affitti ha fatto sì che ancora c'è ancora margine da tantissime parti poi è pieno di cooperative la Svizzera è pieno di genossenschaft quindi quello se stai tipo New York gli affitti ogni giorno chiama l'andard alle 5 di pomeriggio è cambiato l'affitto però qual è la prossima Svizzera ragazzi non ne ho la più pallida idea è un mondo difficile è un mondo proprio difficile non ne ho la più pallida idea spero qualche nazione dell'est spero qualche nazione dell'est Europa se si aggiustano politicamente spero Romania, Bulgaria Repubblica Ceca oppure andando un po' più a nord credo nella Repubblica non lo so ragazzi non lo so confronto Svizzera Danimarca e Olanda non conosco Danimarca e Olanda inviterò Simone in live a parlarne non conosco né Danimarca né Olanda parlo di quello che conosco quello che non conosco speculo premesso che sto speculando e sono miei opinioni non ho dati su altre cose l'India ragazzi l'India la Ripponia l'Austria non lo so è troppo europea il problema della comunità europea è che è troppo europea la comunità europea sta veramente decidendo di essere boomer la comunità europea ha detto ma facciamo tasse altissime la tecnologia via brutto tecnologia brutto e quindi in Austria sì settimana lavorativa più bassa di tutte con 34 ore però non c'è che vai a fa? vai a pagare i pensionati non c'è Irlanda 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 è un posto Irlanda è una nazione B2B non è una nazione B2C Irlanda ha ottimizzato verso il B2B cioè non so quando fai il documento ti fanno il documento ti rilasciano l'iscrizione al registro di commercio no pensavo veramente le nazioni dell'est Europa più occidentale possibile che vanno da la parte diciamo la parte che dà sull'Adriatico è troppo no non ce la farà mai io punto su una combo tra Bulgaria Romania Repubblica cieca e ci metto la Polonia la Polonia è veramente la Polonia se sapesse la Polonia ha dei talenti mostruosi in Google metà erano polaghi erano proprio forti hanno università forti la Polonia è forte cioè non lo so Polonia cresce probabilmente sono ovviamente me e il problema di quelle nazioni là è che però sono ancora non sufficientemente burocratizzate dall'Unione Europea che stiamo speculando mentalmente cioè difficilmente la Francia ci sorprenderà difficilmente la Germania ci sorprenderà se non facendo altre guerre mondiali diciamo che dal resto India Cina non vedo non vedo che tu domani vai lavorare in India e l'India è la nuova Svizzera comunque è anche troppo grossi cioè l'India è una roba no non succede può come la Cina diventare un motore lento diesel ma non è che anche quando la Cina stava a cannone tu andavi in Cina e avevi svoltato cioè no tu lavoratore italiano non vai in Cina però invece nazioni un po' più piccole se si se si ripuliscono un attimo bisogna trovare gli esempi quelli non so tipo Singapore bisogna trovare la nuova non la nuova Svizzera la nuova Singapore e il nuovo Ruanda Ruanda era un'altra nazione la Svizzera d'Africa e Singapore la Svizzera d'Asia che a un certo punto sono nazioni comunque piccolissime piccole in cui c'è stata una diciamo diciamo una direzione politica tra virgolette illuminata che che le ha portate a come dire a crescere dal punto di vista della competitività però vabbè sono speculazioni ragazzi sono speculazioni noi lo scopriamo mai in Ruanda è cresciuto perché qualcuno ha pagato soldi dall'altro non lo so però modello Ruanda modello Singapore modello Svizzera non lo so Grazie a tutti